Il tempo per un'ultima domanda e poi dopo ci lasciamo. La domanda era per il direttore della provincia cosentina. Un paio di anni fa è uscita la notizia di un giornale che in Calabria venne chiuso, era il dialogo, il dibattito, non credo perché, non mi ricordo bene, perché da tempo conduceva una campagna stampa molto dura nei confronti della magistratura antimafia di Reggio Calabria. Venne fuori che questo giornale probabilmente attraverso la proprietà uscivano fuori dei contatti molto vicini alle cose che probabilmente venne anche finanziato. Volevo chiedere come è stata vissuta questa cosa dall'informazione calabrese e poi volevo anche fare una riflessione più ampia su quello che mi sembra un grande vuoto informativo dell'informazione italiana, che proprio si parla molto poco di informazione in Italia e di proprietà dei giornali. Io penso alla Sicilia, sono siciliano. In Sicilia c'è un oligopolio dell'informazione che è molto duro e molto difficile fare informazione alternativa. Ovviamente tutto questo si riflette sulla democrazia, secondo me si riuscirebbe a capire molto meglio perché la sorella di un magistrato ucciso dalla mafia è stata abbattuta da uno che alla fine è indagato per associazione, ma per favoreggiamento esterno a cosa nostra. Quindi probabilmente riflettere su come si fa informazione, sugli assetti proprietari dei giornali un po' di più e sulle fonti di finanziamento dei giornali. Mi ricordo che l'ha fatto Milena Gabanelli molto bene, ma sono veramente pochi quello che lo fanno, quindi chiedevo queste due domande. Allora, io velocemente, rispetto a quel quotidiano chiuso per connivenza, così si dice da quelle parti, ancora chiuso, se posso dire la mia opinione è meglio. Dunque, è un tasto molto delicato questo perché nella nostra regione occorrerebbe, ma chi lo deve fare, andare a vedere molto da vicino il rapporto tra informazione e il mondo della politica, colgo l'occasione per ricordarvi, qualora non lo sappiate, che siamo, Davide, la regione d'Italia con il più alto numero di consiglieri regionali indagati, questo lo sapete, cioè almeno in qualche cosa abbiamo il primato, insomma, da garantista non sono stati ancora processati, sono solo avvisati, ogni volta ci chiedono di precisarlo, però noi abbiamo battuto un record, siamo a quota 30 o 31 quasi, pensate su quasi una cinquantina di consiglieri, quindi insomma siamo molto bravi in questo. Sì, sarebbe molto interessante andare a studiare, ad indagare, a vedere il rapporto tra giornalismo o chi fa giornale, chi ha giornale e un determinato mondo, politica compresa, politica quella inquinata, si capisce. La nostra regione, la nostra provincia in particolare, pensate, il nostro comune, la provincia di Cosenza, la provincia di Cosenza consta di 155 comuni. Noi abbiamo il quotidiano, la Calabria Ora, la Gazzetta del Sud, la provincia di Cosenza, la provincia cosentina, più un altro cinque quotidiani locali, regionali, chiamate come vi pare, tutti questi lettori, non è che li vediamo, scusate. Ora, qualcuno mi può dire, allora parla per la parte che ti riguarda, subito fatto. La parte che mi riguarda, nel 2000 incontrai il mio editore, che è colui che ha costruito alla faccia di tanta tanta gente cattiva, un centro che si chiama il centro commerciale Metropolis, l'unico nel suo genere nel Sud, e osare, sfidare, spero che lui non me ne voglia, se io dico queste cose, Davide e i colleghi, però certe volte bisogna anche avere il coraggio di testimoniare per altri, avere il coraggio di costruire una cosa del genere in quella realtà e senza pagare pizzo. Capite che le dura, cioè non è roba da poco, e per farlo, per sostenere questa megastruttura, al contempo aveva bisogno appunto di media, che è importante per reggere questa struttura, e così nacque questa televisione nostra locale, Metrostat, per dare supporto a questo mega, mega centro commerciale, e non solo, anche il centro dove si vive. E poi da lì comprò anche questo giornale, la provincia cosentina, che avrebbe dovuto essere un buon affare, però così non fosse, scusate, mi viene da ridere, perché forse non ci ho messo io i soldi. No, a volte insomma bisogna anche ridere per sdramatizzare, però per dirvi, per rispondere alla tua domanda, che insomma questo mondo dei media non è un mondo così tutto pattinato, tutto... Bisogna andare a vedere da vicino, e sarebbe interessante, cari signori, Iene, fare un salto da quelle parti lì. Io non ho detto niente. Sento al volo con una domanda velocissima, ma se il tuo editor, mi viene così, non lo conosco, conosco un po' la realtà di Cosenza, che non paghi, io non ci metto mano sul fuoco, però credo alle tue parole. Se a lui questo giornale non conviene, perché lo tiene? Non è che fa comodo magari a qualcun altro? No, assolutamente no, 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 assolutamente no. Guarda, il giornale serve, o una media, in questo contesto, in questo caso, serve, perdonatemi il termine, per essere anche visibili, se è il caso, anche vivi. Grazie. Sono utili, che non necessariamente sono economici. L'ultimissima domanda, e poi dopo ci salutiamo. Prego. Io volevo domandare questo, non so se esiste già, oppure se ci state pensando, visto che si è parlato di attenzione da parte dei giornalisti ai termini utilizzati, non esistono anche realtà di insegnamento alla conoscenza dei media nelle scuole, così come esistono magari programmi sulla sessualità oppure sull'educazione stradale, voglio sapere se c'erano anche già altre cose che riguardano appunto i media, magari con visite agli studi, per vedere proprio come funziona il lavoro, in modo da educare i giovani, al di là poi che vogliono fare i giornalisti o meno, a come viene creata una notizia per poter già imparare ad avere una distanza da essa quando la incontrerà. Il tecnico non mi occupo di queste cose, però dico questo, secondo me qui, magari sono i giornalisti che devono andare a scuola, perché ormai la ragnatela elettronica, i giovani, la conoscono meglio di noi. Noi viviamo in un momento storico in cui, sì, la televisione è un pezzo, la radio è un pezzo, i giornali sono un pezzo, poi c'è tutto il resto, dove passano le informazioni, dove passano non solo le notizie, ma passa la storia contemporanea, la contemporaneità. Sai, noi viviamo in un sistema che ormai è interdipendente, computer, i telefonini, YouTube, mi ricollego a quello che dicevo prima, e cioè stiamo vivendo un momento storico pazzesco e forse non ce ne rendiamo conto. Adesso, sì, probabilmente molti ragazzi possono trovare soddisfazione nelle visite che la mia azienda organizza a Saxarubra tutte le settimane, però io credo che non sia questo il punto. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che questo sistema così integrato, così complesso, che sarà ancora più complesso, beh, insomma, resti in qualche modo strumento di formazione dell'opinione pubblica, pubblica, perché questo è il problema. Il giornalismo non serve a nient'altro se non a questo, raccontando quello che ci accade attorno consentire formazione di opinione pubblica sulle cose, sulla politica, sull'economia, sulla cronaca, sui fatti della vita, sullo sport. è un mestiere, in questo è davvero un mestiere borghese, riuscire a dare possibilità alla gente di farsi la propria opinione. Ecco perché tutto questo non può essere limitato, ma di questo c'è bisogno che sia sempre più che contenga sempre più tanti punti di vista, che non sia nelle mani di pochi imprenditori, ma sia il più possibile nelle mani di economie diffuse. Ecco, queste sono le questioni del giornalismo in questo momento. Si fa un gran parlare intorno alla mia azienda, se è giusto privatizzarla o no, questa è la questione della televisione in Italia, non è limitare un imprenditore, il signor Berlusconi nella gestione della sua azienda, è prendere il pubblico e privatizzarlo. Queste sono le questioni politiche. A questo si può dire sì, si può dire no, si possono dire tante cose. Credo, ma questo è un mio punto di vista, che in un sistema che funzioni uno spazio pubblico è importante perché può essere se gestito bene, rinnovato, se può consentire agli altri di essere migliori e nello stesso tempo il privato può essere o i privati possono consentire al pubblico di essere migliori e anche più utili. al di fuori di questo siamo dentro lotte di palazzo, lotte all'interno della politica e dell'economia. Qual è la ricetta migliore? Ecco, io credo che per avere una ricetta migliore torno al punto di partenza occorra una nuova classe dirigente di questo paese. Fino ad allora probabilmente non lo capiremo se non vivendo. Grazie. Bene, abbiamo trascorso insieme due ore e mezza, mi sembra che siano passati in maniera molto veloce e molto forte. la consapevolezza che anche i giornalisti avrebbero bisogno di formarsi io l'ho avuta oggi guardando il rapporto Caritas Migrantes del 2006. Tutti pensano per esempio questa piccola annotazione che gli immigrati arrivino soprattutto attraverso gli sbarchi. Gli sbarchi rappresentano solo il 10% dell'immigrazione clandestina, il 15% arriva via terra e il 75% attraverso le frontiere con visto turistico visto che ovviamente poi fanno scadere e quindi rimangono in Italia col permesso scaduto. Questo per dire che insomma dobbiamo formarci anche noi come comunicatori. A nome di tutti io farei un grande applauso a Giovanni Maria Bello, Donatella della Ratta, Genevieve Maccaping, Luigi Pelazza e David Sassoli. Da loro sappiamo che non abdicheranno mai a questo bisogno di informare e non abdicheranno mai a quella che è la dignità di ogni uomo. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie.